Con la Roma Calciotto, centralmente con Pettinari, il suo sinistro e Bladescu, deve distendersi alla sua destra, gran parata! Il futboletti in pressione con Alimberti, la sua protezione parla, il tiro deviato e guerra, con un riflesso incredibile, si supera sulla deviazione! Il calcio di punizione è in corsa lunghissima di paresce, ma il numero 16 adesso turnea, dice no! Entrano in aria i biancocelesti, palla messa fuori per Bettinelli e Caterini, dice di no! Si appoggia a Fiera, Fiera aggancia, salta un avversario, va al tiro, grande risposta di Citti, Fiera si appoggia a Pittorino, palo incredibile! Se pensa sul pallone Valentini, ancora Citti!